Non è una guerra tra poveri, ma piuttosto una battaglia per il giusto rispetto affinché si eviti di creare commercianti di serie A e serie B. Così Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara, che chiede chiarezza alla regione Abruzzo in merito al protrarsi della chiusura di alcuni codici a Teco in quelle che un tempo erano definite zone rosse, prima che l'ordinanza di Marsilio derogasse al DPCM Draghi per lasciare aperti estetisti e parrucchieri. Non discutiamo le ordinanze legate alla pandemia e alla sanità, però non siamo riusciti a comprendere venerdì sera perché nel momento in cui è stata confermata zona rossa Pescara all'area metropolitana, così parliamo anche di altre zone, è stata soltanto esclusa da questo settore l'abbigliamento, le gioellerie e il calzaturificio. Non dobbiamo fare la battaglia tra noi colleghi, però abbiamo visto che c'è stato un po', secondo noi, un po' di confusione. Però attenzione, c'è da una parte un'emergenza sanitaria che comunque è nota a tutti, ma dall'altra l'emergenza economica sta diventando un problema di pari passo. Noi abbiamo chiesto, ha chiesto il consigliere regionale della regione Abruzzo, legato alla maggioranza, un incontro con Marsilio, siamo in attesa di un loro appuntamento per capire insieme, perché noi questa battaglia la vogliamo fare insieme, evitateci a noi di essere serie A o serie B. Tutti siamo partite IVA, tutti meritiamo il giusto rispetto. C'è poi la questione della proroga dei saldi a fine marzo, che però serve a ben poco se i negozi di abbigliamento e accessori continuano a restare chiusi, spiega Enzio Dottavi Antonio, presidente di Federmoda per Confcommercio Abruzzo. Noi siamo ogni settimana in attesa che Marsilio ci faccia riaprire, per cui la nostra speranza è che anche questo venerdì ci possa essere un'ordinanza meno restrittiva per quelle categorie commerciali che oggi devono ancora tenere i negozi chiusi. E a quel punto possiamo sfruttare gli ultimi 15 giorni di saldo per cercare di portare a termine questa infausta stagione. Adesso è come un collo di una bottiglia, per cui adesso c'è un grosso problema, c'è tre grossi problemi. Il primo è una stagione invernale che non è stata pagata perché le chiusure di novembre e dicembre hanno spostato i pagamenti a gennaio, febbraio, marzo, aprile. Siamo chiusi e non possiamo pagare. Di conseguenza se non paghiamo la merce invernale le aziende non spediscono la merce estiva. Poi c'è un altro grosso problema, in questo momento qui si stanno predisponendo gli acquisti per la stagione invernale del prossimo anno, per cui chi è in difficoltà rimane impigliato in questa rete e purtroppo non ce la farà. Aspettiamo che Marsilio o qualcuno ci dia ascolto perché vogliamo spiegare bene come funzionano alcune categorie commerciali. Non siamo tutti quanti uguali. In un contesto di crisi economica poi le infiltrazioni diciamo malavitose sono dietro l'angolo perché parliamo poi di usura, una rete di reati in cui possono finire proprio i commercianti in difficoltà. Questa è la preoccupazione che noi abbiamo detto al prefetto. L'angio proprio questo appello a dire ai miei colleghi commercianti se hanno delle difficoltà di recarsi presso le nostre organizzazioni, la mia e le altre, perché una strada la possiamo trovare.